Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, ha incontrato a Roma il ministro delle imprese Adolfo Urso al centro del colloquio alla crisi dell'azienda siderurgica tarantina. Urso ha confermato che il ricorso all'amministrazione straordinaria a tempo per acciaglieri d'Italia è una delle ipotesi al vaglio. Toma ha sottolineato che se lo Stato dovesse prendere la strada dell'amministrazione straordinaria momentanea, che non si ripetano le problematiche vissute nel 2015. Il presidente di Confindustria ha spiegato che vanno rispettate le scadenze e quindi le fatture delle aziende fornitrici. Se ciò dovesse ripetersi, ha sottolineato all'Agi Salvatore Toma, si potrebbe innescare una vera e propria bomba sociale. Il ministro Urso ha replicato che se dovesse essere fatta la scelta dell'amministrazione straordinaria si penseranno le tutele per le imprese dell'indotto. Toma ha infine annunciato all'Agenzia Italia che a breve, forse già la prossima settimana, il ministro Urso potrebbe essere a Taranto. Intanto c'è l'avvio della nuova cassa integrazione straordinaria nello stabilimento di Taranto. L'USB ha comunicato che nelle scorse ore Acciaglieri d'Italia ha inoltrato alle sigle metalmeccaniche la lettera con la quale si avvia la procedura dall'1 gennaio scorso alla luce della proroga del governo, interessati 2.500 lavoratori del siderurgico tarantino.